Seconda corsa dall'arcoveggio, prova di categoria F sul miglio, sono sette dietro l'autostart, uno Alina Zak, due Zaza Alter, tre Turbo Kapar, quattro Donatello Si, cinque Zilli, sei Anastasia Trio, seconda linea, sette Amira F. Corsa molto aperta. L'errore di Alina Zak, così si lancia in avanti Turbo Kapar, attaccato da Donatello Sisu che si avvantaggia. Passa a condurre Donatello Sisu nei confronti di Turbo Kapar, più indietro gli altri, con in coda Anastasia Trio. Primi 200 che se ne vanno nell'ordine del 14,9, in vantaggio Donatello Sisu, Turbo Kapar in scia, gli altri leggermente più discosti, cappeggiati da Zaza Alter, mentre ha sbagliato e rimane praticamente fuori corsa Alina Zak. Completamento dei 400 iniziali in 31,6, avanza a largo Zilli, si trascina Amira F, in coda sempre Anastasia Trio, che va a far terza pariglia dopo i primi 600 di gara, ma l'andatura è davvero ridotta. 48,5 per i 600 iniziali e Donatello Sisu continua a guidare tranquillamente, nessuno si muove, tutti a subire il ritmo del leader, che completa un mezzo milio in 1,6 e 1, addirittura, 34,5 il secondo quarto di gara. Situazione invariata anche sulla piegata, il ritmo non aumenta, in seconda posizione si mantiene Turbo Kapar davanti a Zaza Alter, all'esterno senza forzare invece Zilli intanto 1,23, il passaggio al chilometro, Donatello Sisu ora accelera sotto la pressione di Zilli, che attacca con decisione a 400 dal palo, il parziale in 15, Donatello Sisu si difende allo steccato, mentre avanza anche Amira F, che viene via in terza ruota insieme a Anastasia Trio, si risolverà tutti in un volatone finale, intanto ha preso il sopravvento Zilli, cerca ancora di rientrare Donatello Sisu, a centro pista Anastasia Trio la più lanciata, Anastasia Trio nel finale fa valere il suo parziale e viene a vincere nettamente nei confronti di Zilli, che piega Donatello Sisu, corsa senza ritmo, 1,19,2 ma 29 a chiudere, che vale molto meno per Anastasia Trio, che partiva da molto più, era molto più arretrata rispetto all'apariglia di testa e nel finale emerge travolgendo gli avversari, Marco Stefani, a conferma del grande momento, viene a vincere con Anastasia Trio, quota in chiusura da favorita per l'allieva di Paolo Leoni, secondo posto per un Zilli comunque che corre molto bene, al terzo Donatello Sisu. Grazie. Grazie.